Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2, io sono Glacial Sphere ed oggi andremo a provare per la prima volta Sojourn, o meglio ho fatto un po' di partite con lei giusto per capire un attimo l'abilità, ma ora la proviamo davvero sul serio. La prima abilità come vedete è spara proiettili ad alta frequenza che generano energia all'impatto, questa energia può essere convertita in un colpo a impatto elevato che consuma l'energia immagazzinata col pulsante destro. La ultra overclock, l'energia del fucile a rotaia si ricarica automaticamente per un breve periodo e i colpi caricati penetrano i nemici, quindi con il tasto destro penetreremo i nemici durante la ultimate. Scivolata energetica, energica, scivolata terra che può trasformarsi in un grande salto, vedrete poi come si usa, e colpo distruttivo, lancia una scarica di energia che rallenta e fligge danni i nemici al suo interno, passiva ruolo attacco, le eliminazioni aumentano per breve durata la velocità di movimento e di ricarica. Ok, io mentre la partita inizia vi ricordo di lasciare un'opera mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Sojourn e di Overwatch 2 in generale, dandomi anche dei consigli su questo campione, e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. E si inizia ragazzi, e si inizia. E muori, via. Ottimo. Cosa che mi sta prendendo? Nulla, ok. Pronti a catturare la zona. E' andata bene questo primo sfondamento, eh. che era bonito di prendere qualcuno con quel colpo. Grazie per l'aiuto. Buono. Ottimo. Ottimo. Non mi ho ancora fatto vedere la velocità, la scivolata, in verità. La scivolata è questa. Oppa! E possiamo saltare in alto. Dove sono tutti i nemici? Ci sono già dati per vinti? No, sento dei passi. Sono quelli dei nostri nemici? Sono tutti. Ah, ci stanno aspettando là. La mia barriera è andata! Attenti, ha soldato anche alla ultime. Eh, niente. Peccato. Dai, raga. Era da uccidere quel soldato lì, però. Eh, giustamente è venuto subito su di noi. Peccato. Peccato, peccato. La nostra prima morte è per colpa del aimbot, ovviamente. Andiamo, andiamo. C'è qualcuno qui dentro? Ok. Ok. Dai! Deve morire quel tipo. Ah, ha ammazzato qualcuno. Eh, niente. Quella ulti di tipa lì è difficile. Avrei dovuto usare la mia schivata, probabilmente. Quella ha ultato tutti. Questa sarà la play of the game, anche se totalmente immeridata. Perché ho tenuto su delle persone praticamente ferme. Vabbè. Capita. Muori, Mei. Continuiamo. Eh, bel lavoro, sì. Pronti a radunarti. Ah, hanno preso già anche ratta. Non così, inferiore. Grazie per la 10. La barriera ha ceduto. Ah, no, dai, mi ha assordito. Stavo per andarmene. Via. Eh, niente. Ci ho provato. Ci ho provato, ma il mio team era morto. Quel junker ha fatto un macello, comunque. Ha fatto davvero un macello. Io come danni sono primo, quindi ottimo. Come cosa? Sto facendo, sono un campione danno e sto effettivamente facendo danni. Via di qui. Scusatemi, chi è che mi ha ammazzato? No, dai, il support. Cioè, non ci posso credere. Chi è che mi ha tirato... Boh. Ah, il support con un colpo in testa ammazza? Cioè, quindi Chirico con un colpo in testa ti uccide. A me non sembra. Quando l'ho usata io, non uccideva con un colpo in testa. Con un colpo critico Chirico. Guarda, colpo critico l'ho fatto, ma non è servito a nulla. Avrò colpito qualcun altro, non lo so, però. Oh, finalmente qualcuno ti ha metto uno scudo, eh. Beh, è andato. Dai, esci da quella merda. No, bomba in buca no. No, dai, è arrivato da sopra. Speravo di poterlo evitare, invece mi è arrivato da sopra. Niente. Ho buttato via la mia ultima. Mi ha sfuggito qualcosa. Squadra annientata. La squadra annientata, bene, sono contento. Vado, ragazzi, cioè, ci hanno disintegrati. Ma ha esercitata una forza per far avanzare il carico lineart al vostro servizio. Ma ha un po' di cure qui? Cioè, dove va che sono? Niente, non abbiamo personaggi che curano. Vorrei dover sapere quanto hanno curato... Cioè, di loro c'è una che ha curato 6.000, Kakiriko, che effettivamente cura tantissimo. Zainata poi ha curato 4.600. Da noi abbiamo gente che non cura. No, non lo farò nemmeno io. Dai, volevo andarmi, non ce l'ho fatta. Vabbè. Però, ragazzi, anche la schivata... Oh, vorrei vedere contro cosa sono sbattuto. Contro il muro di Mei? Boh, forse era davvero il muro di Mei. Cioè, me l'ha messo dietro e non sono riuscito ad andare via. Però, boh, peccato. Sai, questa partita è andata, ragazzi. Niente, è impossibile evitare quel coso. Eh, niente, ci ho provato qua, ragazzi. Ho dato tutto me stesso, come danni ne ho fatti tantissimi, più di tutti praticamente nel team, ma anche di quelli che hanno vinto. Però, non è bastato. Play of the game sarà, infatti, Mei con quell'azione bruttissima in cui ha tirato una ultimate e poi ha vinto la partita. Qua, infatti. Ha tirato una ultimate, dai in culo, cioè non deve manco essere vicino a lei. Ha tirato una ultimate dietro il muro e via. Ha vinto. Boh, va bene. Complimenti a me per il campione. Lo ripeto anche in questo video, il campione che mi sta più sulle balli di tutto Overwatch, dato che è davvero un campione fastidioso da giocarci contro. Ma, detto ciò, andiamo subito in un'altra partita con Sojourn. Eccoci qui, partita trovata con Sojourn. Andiamo a prenderlo. Anzi, a prenderla. Tecnicamente penso sia una donna. Sojourn. E vediamo come sarà questa partita. Come modello, come vedete, ho solo quello di Overwatch 2 perché non ho preso delle skin. Le uniche skin che io possiedo di questo gioco sono derivanti da Overwatch 1. Infatti ci avevo giocato un po'. Avevo preso un po' di chest, un po' di bauli, un po' di cassoni, chiamatelo come volete. E mi hanno dato un po' di skin. In questo Overwatch 2, da quello che ho capito, invece, non le danno più quelle cose. Oppa. Comunque questo campione non è male per niente. Bisogna essere bravi a mirare con il colpo del tasto destro. Ma già comunque col tasto sinistro fai parecchi danni con questo colpo qui. Il problema è la rosata dei colpi che si allarga molto subito. Vedete, diventa abbastanza imprecisa da lontano. Quindi dovete andare più o meno a medio raggio. Mentre se volete rimanere da lontano dovete contare sul colpo a impulsi, quello sul tasto destro. E potete usare bene la E. Vediamo da dove arrivano. Per poter usare bene la E. Da là. L'hanno già sfondato. L'hanno già fatto saltare la barriera. Muori. Non so come mi avrebbe fatto ad evitare quella cosa, ma l'ho fatto. Maledizione. Non così mi farebbe. Non ti lascerò fermo. Dai Crepa. Ole. E quella però c'è un healer lì. Attenti dietro. Crepa. Buono. Eh, attenti questo ripare, eh. Dovete stare attenti qui. Dai, di quanto non l'ho colpito. Ecco come si fa. Muori. Buono. Ah, attenzione. È arrivato Jankara. No, dove sono volato? Ok, pensavo di essere caduto. Bravo, potenza mi danni. Ottimo. Devo andare quassù. Questa è un'attima posizione da prendere. Ecco fatto. Oddio, chi è che mi ha ucciso? Minchia Kenji. Mi ha shottato o sbaglio? Ero full vita. No, avevo pochissima vita. Boh, va bene. Mi sembrava di essere full vita, a dire la verità. Vamos. Buono. Eh, niente. La ultima 3 Genji mi ha disintegrato. Ho provato a fare un po' di danni. Attenzione, mi resuscita. Buono. La finiamo sì. È statisticamente impossibile. La mia barriera è andata. Niente a questo. Azione di disturbo. Via. Attente Genji di dietro. Buono. Buono. Un po' di danni da tirati, eh. Buono. Ma un po' di cure qui? No, eh. Boh, Mercy stava curando gente full vita, porco cane. Ero lì da tre ore con metà HP. Non vorrei dire, ma sono quello che sta facendo più danni nel team, quindi cura me, merci. Per la prossima volta. Dai che arriviamo, dai che arriviamo. Hanno portato il carro? No, dai, hanno portato il carro. Sono uscite... No, non penso siano uscite ad arrivare al primo. Eh, là è aperto, però. Mi sa che ne sono uscite a portarlo, eh. Eh sì, rifletti questo, va. Rifletti, rifletti. Eh, vabbè, raga, però. C'è che un tank riesca a disintegrare un danno, così io non gli faccio nulla. Ah, ho usato la ulti questo? Boh. Se ho usato la ulti, ok. Niente, loro stanno pushando, eh. Oh, va bene, impossibile colpire da lontano. Impossibile colpire da lontano, se no nemici fermi, praticamente. Minimiamo una torretta di Torbio, non nemmeno. Dai, non ho colpito nessuno, davvero. Puoi morire, gentilmente, grazie. Perfetto. Ok. Trava, merci, curaci. Fucile a rotaia a carico in attesa. Via la torretta. Torretta nemica distrutta. Fucile a rotaia a carico è pronto al fuoco. Raga, là c'è gente che non muore da 3.000 anni. Dai! Mi è servito per un po' di cure. Niente. Genji mi ha seguito da non so dove. Ah, niente, mi aveva visto che ero entrato di dentro. Peccato. Peccato, peccato. Ranghi serrati e difendiamo. Non hanno possibilità. Eh, ranghi serrati e difendiamo. Testa alta e giocare, eh. Quello. Eh, buonanotte. Eh, qua sono andato a morire io, praticamente. Tanto non avrei comunque avuto tempo di aspettare gli altri. L'avrebbero portato. L'avrebbero comunque portato. Niente, sempre all'ultimo secondo riescono a portare questo caffio di carro. Sempre all'ultimo secondo. Anche nelle partite degli altri video. Forse quella con D.Va. Un tizio che l'ha portato all'ultimo secondo. Un tizio che l'ha portato all'ultimo secondo. Un tizio che l'ha portato all'ultimo secondo. E niente, finché non si tira giù Mercy è praticamente impossibile. Muori. Dai, su. Perché non muore? Oh. Non provateci, eh. Muori. Ma no, che casino, ragazzi. Non ci capisco nulla. No, ci ho uccisi tutti con la merda. Ok, però abbiamo vinto. Credo. Ok, grandi. Uh, raga, io ho fatto 10.800 danni. Non vorrei dire. Alla faccia dei danni, eh. Buono, buono. Eh, questa sarà l'ultima. Sì, infatti, qua quando ho avvanzato tre persone con la ultimate, compreso me. Boom. Via. Ma hanno comunque perso. Oh, bella partita questa. Comunque combattuta. E siamo riusciti a giostrarcela bene. Andiamo a fare l'ultima partita di questo video, sempre con Sojourna. Guardate la partita e siamo in Nepal. Con il round che si è appena concluso. E stiamo già perdendo. Beh, grazie Overwatch per mettermi sempre in partite interessanti da giocare, mi raccomando. Non mi romperò sicuramente le balle a giocare questa partita, dato che è già iniziata. E stanno già perdendo i miei compagni, mannaggia loro. E figurati se non hanno un Anzo. Guardate, il tipico player. Vediamo, aspettate, prima di fare insulti. Vediamo quanti danni sta facendo Anzo. 2000 danni. Ok, sì. Il tipico player che prende Anzo non becca un colpo manco a pagarlo. Ok. Vediamo un po' se con questo nuovo innesto del buon Glacial qui riusciremo a fare qualcosa in questa partita. Dopo che hanno perso malamente il primo round. Allora, io non posso andare in front line con questo personaggio. Devo serstarmene indietro e vedere da dove arrivano loro. Da là. Come scusa, Dumufist? Come scusami? Mi servirebbero dalle cure qui. C'è qualcuno che mi spara? Ahia. Sono andato a sbattere. Sperando che non mi veda nessuno qui dietro. Grazie. Ok. Mi sento bene. Siamo in fondo. Face attenzione. Raga, io una ve l'ho attaccata, eh. Buono. Buono. Muori. Ah, peccato. Dai, non fatti fuori tre, però. Dai, dai, dai. Non male. Non mi si può sfuggire. Aspettate. Mi ha sfuggito qualcosa. Ho riuscito a prenderlo? Buono. Buonissimo, anzi. Andiamo a ridare un po' di disturbo, va. Attenti, la palla di Moira. Attenti, come Doomfist si tira. Eh, infatti, Doomfist arriva. Cazzatissimo. E' qui sopra. Buono. Attenti. Buono. Ottimo. Quale Doomfist va tirato giù. Eh, niente, raga. Qua ci ho provato, eh, ma... Però non stanno prendendo il punto. Eh, mi sa che adesso inizieranno a prenderlo. Eh, mi ha ucciso Anzo, figurati. Dai, al 99%, non ci posso credere. Ve lo ricordate in Overwatch 1 il bug del 99%? Che non si sa come mai, ma il nemico riusciva sempre a prendere il punto al 99%. Ma c'è Doomfist qui in giro? Dai, l'avevo presa. Ok, è morta. Senti, un po' di cura qui? No, eh. Ah, c'era Moira addirittura avversaria che mi distruggeva. Però dai, abbiamo in tutto il round. Buono, buono, buono. A livello di danni, niente male. 1.600 danni in un round. Comunque, non ho avuto troppe chance di fare danno perché gli avversari stavano sempre molto lontani. Per poi attaccare tutti insieme quando intendevano ucciderci tutti. Però dai, è importante avere portato la casa al punto. Grazie, zegnata. Stavo provando a tirare la balla. Niente. Pronti, vai. Hop, via. Vai, 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 vai. Stiamo a fare un po' di danni, va? Buono. Fucile a rotaia a carico e pronto al cuore. Dai! Quanto mi mancava. Sto prendendo la zona. Buono. Convergete, squadra. Attenti qui, eh. Li ho ricacciati nel loro buco. Attenti poi da questa parte. Nel caso vogliono uscire di qui loro. Dai, qui però l'avevo messa bene, eh. Minchia se l'ho giocata bene qua. Minchia se l'ho giocata bene qua, ragazzi. Dov'è? C'è Doomfist? No. Qualche dammi che sto tirando giù. Buono. Uccile a rotaia a carico. La finiamo. Hai chiuso. Li distruggo. Cento. Buono. Su madre nemica eliminata, minchia. Li abbiamo disintegrati, oh. Alla faccia. Poverini. Direi che la mia giunta è servita, dai. A questo team. Ho avuto un buon impatto sulla squadra. Ecco Doomfist che se ne va. Fermi là. Dannazione, oh. Dannazione. Che colpi. Qui hanno attivato tutte le ultimate insieme, probabilmente. O forse manco una. Oh, boh. 4.500 danni. Ho già raggiunto praticamente Anzo. Della nostra squadra con un round in meno. Direi che il mio impatto è stato considerevole all'interno di questo team. Proprio a livello di danni. A livello di banali danni. Ma che è, ho dietro qualcuno? No, dai, ho dietro Reaper. Buono, abbiamo vinto però. Ah, ti sta bene Okami. Vieni a uccidere me, posso andare a difendere il punto. Stronzetto. Niente, probabilmente l'azione del gamer sarà quando li abbiamo disintegrati tutti, no? Dai Anzo, non ci posso credere. Era nostro tra l'altro questo. Per me ha tirato una ultimate a caso e ha ucciso tutte. Sì, guarda. Dai, ho ucciso due persone con i due headshot incredibili. Attenzione. Oh, dai, buono, bravo. Non me lo aspettavo. Pensavo avessi tirato una ultimate a caso e avessi fatto tante gil con questo mondo. Comunque, abbiamo raggiunto il grado 8 del pass battaglia, cosa di cui me ne frega assolutamente niente. E direi che il video può finire qui. Quindi io ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensi di questa nuova campionessa, di questa nuova eroina Sojourn, dandomi anche dei consigli magari su cosa potrei migliorare, su delle sinergie con le sue abilità particolari o con quelle magari di altri campioni, di altri eroi. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glaciosphere è tutto. Al prossimo video. Ciao.